Io ho mantenuto nel tempo sempre un amore anche per la pittura, non l'ho mai abbandonata, quindi mi divido tra il lavoro di illustratore, disegnatore di fumetti e anche pittore, artista. Quindi le mie giornate si dividono in queste diverse attività. Non ho delle regole precise perché cambia anche il mio ritmo di lavoro rispetto alle consegne, rispetto anche alla stagione, quando c'è più luce d'estate, preferisco dedicarmi più alla pittura e quindi svolgo il lavoro più la sera, quello di disegnatore di fumetti. Per quello che riguarda il mio lavoro inizio possibilmente quando non ho impegni familiari, ho dei ragazzi ancora giovani, il più presto possibile. E poi praticamente rimango assolutamente solidale al tavolo da disegno a oltranza, fino a che non concludo la mia bella tavola quotidiana, che in genere faccio una tavola al giorno. La mia giornata lavorativa tipica forse non c'è, nel senso che prevalentemente preferisco lavorare la sera, anche fino a notte inoltrata, ma forse più per incapacità organizzativa, nel senso che è un mestiere, quello del disegnatore di fumetti, per chi come me lo fa a casa propria, in cui non ci sono degli orari prestabiliti, quindi bisogna gestirsi il tempo. Siccome credo che una delle caratteristiche fondamentali per fare bene questo mestiere sia quella di avere la mente aperta, interessarsi a tanti tipi di aspetti, sia il cinema, i fumetti stessi, ma anche interessi di vario tipo, la fotografia, ma anche cose manuali che non hanno neanche troppo a che fare col disegno in sé, ho proprio questa tendenza a coltivare tanti interessi che spesso svolgo durante la giornata, e quindi mi ritrovo poi ad accumulare il lavoro nelle ore serali, che sono le ore in cui uno non viene disturbato mai, il telefono non suona, la gente dorme e Facebook è disattivato quasi, quindi anche il refresh sulla pagina di Repubblica dà sempre gli stessi risultati da un certo punto in poi. E quindi probabilmente la giornata tipo si organizza così, con una sveglia mattutina, un'organizzazione priminare del lavoro, poi generalmente nel pomeriggio riesco a lavorare meno e quando comincia a essere il pomeriggio inoltrato, verso le 5, mezza, 6, ricomincio il lavoro fino a che non ho il sonno, o fino a che la scadenza non lo richiede. La mia giornata lavorativa si svolge non sempre nello stesso modo, diciamo che sicuramente sto al tavolo da disegno moltissime ore, spesso anche più di 8, quindi 10, 12 tranquillamente, la cosa è che ovviamente questo dipende anche dalle consegne, e per quanto mi riguarda, avendo la tendenza a lavorare molto di notte, diciamo che i miei tempi, la mia vita del quotidiano è diversa rispetto a quella di chi ha un lavoro fisso, sicuramente un ottimo consiglio è quello di organizzarsi proprio quotidianamente, con un calendario, per chi ci riesce, sia le consegne che appunto le ore lavorative giornaliere. Io sono un po' così in realtà schiava del mio disegno, perché non riesco a mettere un punto fino a che il disegno stesso non mi dice che è finito, sono finito. La mia giornata lavorativa consiste in questo, allora se ho disegnato e so qual è il disegno da colorare, di solito lavoro meglio il pomeriggio, quindi la mattina comunque sono a studio, disegno, tento, ma in realtà non realizzo molto, e il pomeriggio quando arrivano le 18 la luce diventa più scura, mi sento un po' più avvolto in questa coperta di stelle, diciamo, allora comincio a dipingere. Se ho una consegna dipingo dalla mattina alla sera. Per quanto riguarda invece la creatività, quindi il momento in cui realizzo un'immagine, in realtà purtroppo ancora non l'ho ben capito. Succede questo anche per le favole di Sopo, ad esempio per questa tavola della copertina, ho iniziato una rana, l'altra l'ho continuata, posso dirlo, al bagno, ho continuato poi, ho seguito, ho camminato, ho girovagato, l'ho finita in viaggio e dopodiché ho cominciato a colorarla senza sapere dove stavo andando. In realtà quello che succede è questo, non so mai dove sto andando finché non è finito, la selezione dei colori non è assolutamente progettata, c'è una composizione che si equilibria durante la realizzazione e quindi non so rispondere, non so dare spiegazioni alla mia creatività. A volte di notte mi sveglio improvvisamente e ho un'idea, prendo un foglio, disegno. A volte non succede, purtroppo non succede così spesso, magari succede se spesso, ma non accade. Il mestiere del fumettista ha dei lati positivi perché ti permette di lavorare anche a casa e quindi la mia giornata lavorativa inizia chiaramente con uno studio della sceneggiatura o comunque sia del soggetto che devo andare poi a rappresentare. Quindi dopo un'attenta lettura di ciò che si deve andare a disegnare, passo poi a una rapida consultazione della documentazione di tutto ciò che ho bisogno nel disegnare. Quindi si spagginano libri, si prendono fumetti di maestri, di grandi autori e si inizia una sorta di documentazione tutto ciò che riguarda quello che poi andrò a disegnare nella storia. La mia giornata lavorativa si basa su un presupposto. Se non ho l'ispirazione o la creatività me la faccio vedere sfogliando un libro, guardando un film, eccetera, perché ho bisogno di una certa continuità. È una questione anche proprio del tipo di lavoro che faccio. E comunque, la mattina carburo con una certa difficoltà. Essendo poi un fumatore preferisco veramente cominciare a lavorare dopo pranzo. Però poi lavoro veramente diverse ore di seguito. Cerco di impostare il lavoro in maniera settoriale. Questo anche per velocizzare i tempi. Cioè, prima i bozzetti, prima la lettura della sceneggiatura, poi i bozzetti, i layout, poi le matite e poi tutto insieme l'inchiostrazione o il colore, se c'è. Questo è il mio metodo. Poi chiaramente capita pure di qualche giorno di lavorare in maniera anomala, ma insomma, la mia giornata lavorativa è questa. Non ho una giornata tipo, perché non sono assolutamente un... non ho un approccio regolare, metodico al lavoro. Non è il modo in cui lavoro. la mia giornata è legata alla mia voglia di lavorare e a quanto lavoro da fare. Sono gli elementi che mi condizionano di più. significa che mi condizionano di più. Seconda cosa è il mondo. E poi ci si glittera la mia voglia di lavorare.